Jennifer Lopez, a 53 anni d'età, ha ancora un fisico molto piacevole da guardare e ha lanciato, senza abbi addosso, quindi completamente nuda, una nuova orina di scarpe chiamata Revolve. Nelle foto infatti appare seduta, coperta soltanto dai suoi lunghissimi capelli, dai suoi bellissimi e lunghi capelli, ai peli e ai desandari, con tacco e lacci piuttosto alti. Decide di mettersi in gioco la bella Jennifer, non avendo paura di mostrarsi come a mamma l'ha fatta, con quei capelli lunghi, vaporosi, ma al tempo stesso lisci. Su Instagram si valese in questo modo e in questa maniera, non vergognandosi di nulla e di niente. L'intento e l'obiettivo è sempre lo stesso, lanciare le sue scarpe chiamate Revolve. Scarpe belle, col tacco, scarpe sexy, affascinanti, che sicuramente non passano di certo inosservate, va bene? Complimento comunque a Jennifer Lopez, che a 53 anni risulta ancora molto bella, molto sexy e molto intrigante, azzardo a dire. Lo è, fisicamente parlando, lo è, anche a livello, secondo me, mentale e psicologico. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Iscrivetevi al canale, narratore italiano, commentate. Un caro saluto a voi, complimenti Jennifer Lopez.